Tu speri che a forza di girare il tamburo riuscirai a beccarti un proiettile? Tu hai un fratello nel secondo battaglione? Sì, signore. Stanno per finire in una trappola. L'ordine è consegnare un messaggio, perché fermino l'attacco di domani mattina. Se fallite, sarà un massacro. Abbiamo l'ordine di passare. Quella è la prima linea tedesca. Al riparo! Avviare la sequenza? Gina, sono tornato. Che posto è questo? Mi spiace dover essere io a dirtelo, ma ti sei fatto uccidere. All'Era Steri costruiamo la risorsa più importante dell'esercito americano. Soldati come te. Tu sei il primo che siamo riusciti a far tornare indietro. Ti abbiamo migliorato, reso più potente. Grazie alla tecnologia nelle tue vene, hai dentro di te un esercito. Che non solo ti renderà più forte, ma ti guarirà all'istante. Forche puttana. Sono il detective Elliot, e lui è l'agente Wagner. Vogliamo solo farvi qualche domanda. Sappiamo che la notte del decesso di vostro padre, la famiglia si era riunita per festeggiare i suoi 85 anni. Com'è andata la... La festa? Prima che papà morisse? Oh, alla grande? Signore e signori, devo chiedervi di restare tutti qui sul posto finché le indagini non verranno concluse.